Selene Beach e Lido Selene. Da 30 anni la nostra estate è in tour per la Puglia. Ciao amici! Benvenuti! Seconda tappa del Lido Selene a Puglia Tour. Cosa ci sarà, Valenti? Allora, ci saranno giochi, gadget, cotigliacchi. Cosa sono i cotigliacchi? Che cotigliacchi? Cotiglio? Ma io non lo so. Vabbè, e questo è solo l'inizio. Vi aspettiamo dalle 10 alle 13. In diretta su Radio Selene. Ciao! Seppie! Seppie! Cozze! Seppie! Brava, signora. Dall'alto, dall'alto. Musica, museca, museca. Dall'alto, dall'alto. Veloci, veloci. Veloci, bravo, bravo. Perfetto. Avanti, avanti, veloce. Veloce, dall'alto, dall'alto. Veloci! Veloce! Vincono le pelose. In un trippolo. Cioè, però le donne si corrono di più degli uomini, si lasciano troppo andare. Com'è sto fatto? Che poi uno dice alla donna, tu devi curare, e l'uomo non si cura. E poi la donna va con un altro. E scusi. Bravo! Bravo! Sulla palla! Basti, chi resta che ti vuol dire qui! Coccoletta! Coccoletta! Sì, ti chiamerò a casa come giardiniere. Vieni! Vai! Sulla palla! Sulla palla! Sulla palla! Sulla palla! Sulla palla! Alla metà che mi taglio le vene, Abrucata sola! E disegno dell'aria! Vai del digno, freggin, come on! Offside, inside! Dimmi la vita loca! Sulla palla! 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 19, 20, 20, 21, 20, 22, 22. Sì Sì